Intanto sabato il primo appuntamento ufficiale con la Coppa di Divisione, trovate l'Arpinova, che partita vi aspettate? La Coppa di Divisione è comunque una manifestazione un po' particolare, è tipo l'FK inglese, quindi si possono incontrare squadre di tutte le categorie. Noi come primo scoglio abbiamo l'Arpinova, è una squadra del nostro girone, chiaramente è riservata ai soli under 23, quindi i valori probabilmente si apprattiscono, però sono sicuro che i nostri giovani si faranno trovare pronti. E' un modo per vedere già che livello siamo con i ragazzi aggregati alla prima squadra, quelli dell'under 19. Cercheremo sicuramente di passare il turno perché il turno successivo già ci può essere la possibilità di incontrare una squadra dal 2 e quindi un ulteriore percorso di crescita con i ragazzi.